Mancano ormai solo dieci giorni a domenica 16 ottobre, il giorno in cui i cittadini di Vigolzone e Ponte dell'Oglio saranno chiamati alle urne per decidere se vogliono o meno la fusione tra i due comuni. A fuori sacco, moderati dal giornalista Michele Rancati, si sono confrontati due rappresentanti dei comitati del Sì, Alessandra Fioretto e Walter Merli e altrettanti esponenti del No, Diego Bellini e Giorgio Marina. Posizioni fin da subito molto chiare. Se per i primi la fusione rappresenta un'opportunità da non perdere per il nostro futuro e quello dei nostri figli, per i secondi si tratta di un salto nel buio dal quale poi non si potrà più tornare indietro. Centrale nella discussione il ruolo dei contributi annunciati in caso di fusione. Dalla regione 136 mila euro per 10 anni, 150 mila euro per tre anni come stanziamento iniziale, 719 mila euro per 10 anni dallo Stato per un totale di circa 9 milioni. Fondi che per Fioretto e Merli sono certi e servirebbero a dare grande ossigeno alle casse degli enti locali, magari a fare quegli investimenti che oggi non si riescono a realizzare. Per Bellini e Marina invece sull'effettivo arrivo di questi quattrini si pongono tanti punti di domanda. E se c'erano questi soldi perché non li abbiamo dati prima? Fuorisacco andrà in replica domani alle 17.15 e alle 23.05, sabato alle 10.50 e alle 20.30.